Ciao a tutti, sono Matthew Lee e conosco il posto perfetto per le vostre vacanze. Pesaro, una città fantastica, piena di arte, musica, buon cibo e mare. Fidatevi di me, Pesaro vi aspetta. Ciao. È bello ogni tanto cambiare punto di vista e ammirare quella grandezza che spesso non vediamo. Fatta di luci bellissime, colori passionali, di vastità. Un'infinita distesa di vita che da sempre ci caratterizza. Capace di accogliere e rendere parte di qualcosa dove l'ordinario è straordinario e dove sentirsi a casa. Una piccola grande casa tra mare e terra.